Adesso andiamo a calpestare le famose strisce pedonali della Abbey Road dei Beatles. Siamo nel quartiere dove i Beatles incidevano i loro primi dischi e ecco le famosissime strisce della Abbey Road. Adesso le passiamo insieme. E questo è l'Abbey Road Studio. Guardate. E' una cosa fantastica. Pensare che in questi posti ci sono venuti i Beatles e qua sono andati i Beatles. Adesso mettiamo una firma. Qua mettiamo la nostra bellissima firma Marco P. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ciao amici di YouTube. Grazie